E' un organo fondamentale e allo stesso tempo complesso e delicato. La mano. Ci rendiamo conto di quante volte al giorno utilizziamo le mani solo quando fanno male e così capiamo realmente come qualunque limitazione nei movimenti del polso e delle dita possa avere effetti invalidanti. Per questo diventa importante non trascurare eventuali problematiche che le possano affliggere. Bisogna prendersene cura. La traumatologia e la patologia degenerativa della mano è in assoluto la più diffusa al mondo. Uno pensa che sia la frattura della gamba o l'artrosi dell'anca, in realtà se andiamo a vedere i dati statistici che vengono sia dalle patologie degenerative sia dagli infortuni sul lavoro o dagli infortuni domestici della strada, la mano è in assoluto la più coinvolta. Vuoi perché è con le mani che esercitiamo il lavoro, lo sport o le attività di casa, vuoi perché se abbiamo un trauma sono le mani che mettiamo in avanti per proteggere il resto del corpo, vuoi soprattutto perché sono lo strumento e la parte dell'apparato autoscheletrico che è in assoluto più complesso e più difficile. Quali sono le patologie più diffuse? Le patologie più diffuse sono quelle con cui abbiamo a che fare quotidianamente, quelle degenerative o quantomeno quelle non traumatiche, per fortuna. Una volta, ahimè, il rapporto era differente. Da un lato la vita era più breve e c'erano molte misure di prevenzione in meno. Quindi la patologia traumatica la faceva un po' più da padrona. Partiamo quindi dalla prima categoria, quelle patologie che potremmo definire insorgenza spontanea in cui apparentemente e a volte realmente non c'è una vera causa. La patologia più diffusa è sicuramente la sindrome del canale carpale che è un po' la star del nostro ambiente. È una patologia molto diffusa, ne soffrono uomini, donne, giovani, non giovani. Ci sono per fortuna rara addirittura delle localizzazioni nei ragazzi o addirittura nei bambini. Quindi il luogo comune che venga alle donne perché hanno il contatto con l'acqua in menopausa è un concetto francamente preistorico. Il disagio che ha il paziente è dapprima un fastidio perché avverte un formicolio le dita più notturno ma anche mentre guarda la televisione o al telefono e progressivamente nel tempo diminuisce la sensibilità, diminuisce la forza e incrementa il dolore. Purtroppo il paziente si allarma solo quando quest'ultimo elemento diventa intollerante che è il dolore, comprensibile per carità, un po' meno comprensibile da parte della classe medica lasciarlo arrivare fino a quel punto. Si tratta di una sofferenza proprio meccanica, il nervo ha poco spazio nel polso e bisogna dargli più spazio. L'intervento è risolutivo, nulla è mai semplice o mai banale nel nostro mestiere, soprattutto per il paziente che subisce l'intervento. Da tanti anni ormai si sta diffondendo soltanto adesso ma in realtà la tecnica è tutt'altro che recente, si opera per via endoscopica e questo rappresenta un vantaggio come in tutto l'organismo, ormai si fanno per endoscopico sia la colecisti, l'appendice, grandi interventi di tipo torino ringoiatrico o d'altro. Nella mano il valore aggiunto è che non si tratta soltanto di limitare l'invasività ma di lasciare la forza perché la mano, abbiamo detto, è uno strumento talmente complesso che quando viene alterato da un trauma e in qualche modo l'intervento è un trauma vengono alterati i rapporti meccanici e quindi spesso il residuo è una perdita di forza con un disagio per il paziente. Quindi la via endoscopica permette di muovere subito la mano, la mano per definizione meno sta ferma meglio è, si mobilizzano tendini, fratture subito nel post operatorio e questo fa effettivamente la differenza. Altre problematiche che necessitano poi dell'intervento? Allora nell'ambito delle patologie degenerative articolari certamente la più diffusa non solo per la mano, dicevamo prima, ma la più diffusa in senso assoluto è l'artrosi trapezia metacarpica chiamata anche rizzartrosi. È un dolore localizzato alla base del pollice ed è legato all'utilizzo scorretto del pollice, quindi possiamo averlo anche nei maschietti a 30 anni, non soltanto in quella categoria famigerata che dicevamo prima del signore che hanno qualche anno in più. Quindi esiste un concetto ben consolidato nel mondo dello sport, nel mondo della musica soprattutto, che quando noi utilizziamo un segmento in modo esagerato ma soprattutto in modo sbagliato, per forza di cose lo roviniamo prima. Ecco perché in questa patologia si può parlare davvero di prevenzione, perché se nelle fasi iniziali del disturbo noi lavoriamo con un percorso reabilitativo corretto, riusciamo a fare in modo che il paziente stia fuori dalla sala operatoria. Evidentemente sarebbe un'offesa all'intelligenza del paziente, della medicina a pensare che si risolva prendendo un cassetto e estraendo un tutore preconfezionato. Dobbiamo immaginare un tutore dedicato, dei tutori dedicati e un percorso reabilitativo di livello che permetta di potenziare la muscolatura scaricando l'articolazione. Quando questo o non dà il risultato sperato, come purtroppo accade anche se sono nettamente la minoranza dei casi, o il paziente arriva a un'osservazione tardiva, si deve pensare all'intervento chirurgico. Nella mano meno protesi si mettono, meno pezzi esterni si mettono, meglio è, quindi l'intervento è il più naturale possibile, peraltro è stato anche messo a punto in una delle sue variabili un po' di anni fa da un italiano, quindi non abbiamo soltanto da imparare dagli altri, il nostro contributo valido lo diamo e questo si chiama tenoplastica in sospensione, quindi la parte alterata dell'articolazione viene rimossa e viene sostituita non la parte meccanica, per esempio con una protesi, ma viene sostituita la funzione. Questo permette di riabilitare rapidamente il paziente, quindi la chiave di volta, al di là della tecnica, è di cominciare la riabilitazione nelle prime 48 ore. Questo consente di ottenere un valido recupero senza acquisire un'ulteriore rigidità, che ahimè nella vita è la vera malattia contro cui noi combattiamo da mattina a sera. Possiamo prospettare legittimamente al paziente di acquisire una manualità autonoma più che soddisfacente nell'arco del primo mese, per poi dedicarsi a una fase di potenziamento che è auspicabile e necessaria, visto che è una patologia che abitualmente trascina da anni e quindi tutta la parte si è un po' indebolita. Ci possono essere dei fattori che vanno a peggiorare una situazione che si è venuta a creare di problematica? Ad esempio i farmaci? Diciamo i farmaci nella cura nel momento in cui non è finalizzata. La risposta a caldo che mi viene più consona è questo utilizzo smodato e costante delle infiltrazioni che avviene nel mondo medico. Quindi ho un dolore, lo spengo senza preoccuparmi da dove venga. ammesso che lo spenga e ammesso di non far danni perché il prezzo c'è, l'infiltrazione rovina un nervo se viene fatta sul nervo, rovina una cartilagine se viene infiltrata su una cartilagine. Quindi a volte sembra una scorciatoia che in vero il paziente in qualche modo gradisce perché ha un sollievo a un prezzo più che ragionevole e quindi gli sembra di aver trovato la soluzione. Purtroppo le scorciatoie non sono gratificanti da questo punto di vista, quindi dobbiamo pensare a seguire un po' la via maestra. Anche nei più piccoli ci sono manifestazioni patologiche? Sì, purtroppo sì. Diciamo anche qui distinguendo tra, in questo caso non degenerazione per fortuna, ma tra malformazioni e traumi. Per quanto riguarda i traumi, purtroppo nonostante tutte le misure di prevenzione che sono state poste in essere, i bambini una ne fanno e cento ne pensano e che poi dovrebbe essere il contrario. E quindi nonostante le grandi attenzioni degli insegnanti, degli operatori scolastici, della famiglia, l'agguato è dietro l'angolo. Basta dire che secondo le statistiche il punto, il luogo maggiore di infortuni per i bambini è la casa. Il settore che abitualmente è meno conosciuto è quello delle malformazioni. Le malformazioni della mano sono più diffuse di quanto non si pensano perché parliamo di un bambino per 1200 nati vivi che possono spaziare da forme semplici come un pollice che ha difficoltà a flettersi e quindi viene chiamato il cosiddetto pollice a scatto per arrivare all'assenza del pollice o all'assenza di tutte le dita o a una mano funzionante ma storta a 90 gradi rispetto al polso. Sono bambini che in un terzo dei casi sono sindromici quindi associano per esempio la mancanza del pollice a una malformazione cardiaca, nel quel caso evidentemente devono essere curate entrambe le situazioni con la dovuta gerarchia e sequenzialità. In molti casi invece hanno una malformazione isolata. Quello che è determinante è la tempestività, cioè sono bambini che devono essere operati intorno all'anno perché il bambino impara a usare la mano tra l'ottavo e il diciottesimo mese. Il problema è l'informazione dei genitori, quindi fondamentale è la collaborazione da parte dei pediatri che invino il bambino non genericamente come avviene per altri problemi ortopedici nell'ospedaletto dei bambini o nell'ortopedia pediatrica ma che invino nei centri che ogni paese ha, ogni paese di comunità europea ha tra i due e tre centri non di più di riferimento per evitare a questi genitori spostamenti, spese, aspettative inutili, talvolta, dispiace dirlo, anche interventi non corretti se non sono seguiti perché se io ho un problema analogo, un adulto che non ha un pollice, un bambino che non ha un pollice, ci sono due differenze fondamentali. Primo che il bambino non l'ha mai avuto, quindi oltre che ricostruirlo deve imparare il cervello a usarlo. Il secondo aspetto è che il bambino cresce e quindi una ricostruzione che oggi può apparire valida o quantomeno accettabile in futuro potrebbe rivelarsi assolutamente insoddisfacente. In conclusione che consiglio possiamo lasciare? Il livello della nostra specialità sia per quanto riguarda la componente della chirurgia della mano sia per quanto riguarda la componente riabilitativa della mano, il nostro paese è altissima. Ci sono realtà a cui i pazienti si possono rivolgere, il medico di base per l'adulto e il pediatra per il bambino rimangono delle figure fondamentali perché il paziente anche in realtà apparentemente asettiche come le grandi città fa riferimento al proprio medico. Quindi il fatto di essere indirizzato non importa verso una struttura o verso l'altra, ma verso una figura professionale che non necessariamente il paziente conosce. Il paziente sa che esiste l'ortopedico, sa che esiste il fisiatra, il risitero-matologo, esiste il chirurgo plastico ricostruttivo ma non è detto che se non ha avuto un'esperienza familiare o non è andato su internet sappia che esiste il chirurgo della mano. Il chirurgo della mano è una figura riconosciuta dalla comunità europea, dall'OMS, quindi evidentemente non l'abbiamo inventata noi. Il fatto di arrivare direttamente allo specialista, lo dicevamo per il bambino ma vale anche per l'adulto, permette di risparmiare fatiche, spese, disagi e soprattutto di ritardare diagnosi e percorsi terapeuti. Lei faccia conto, la nostra non è particolare perché è il centro di chirurgia la mano più grande che c'è in Italia, quindi è abbastanza usuale che il paziente dopo o per una grossa patologia o trauma o a seguito di un risultato non del tutto soddisfacente faccia riferimento a questi centri, c'è il nostro, c'è il CTO di Firenze, c'è Savona, ce ne sono per fortuna tanti e validi. Lei faccia conto che più di due terzi dei pazienti che noi vediamo sono già stati visitati o addirittura trattati in altre strutture e se il paziente arriva vuol dire che qualche problema ce l'ha. Parliamo dunque delle problematiche che riguardano la mano e delle terapie naturalmente necessarie per cercare di risolvere quelle che sono le problematiche. Sì, allora lo studio Paparo nasce a settembre dell'anno scorso dalla volontà di creare un punto di riferimento per il territorio per la cura, la diagnosi, la prevenzione delle patologie che riguardano la mano e l'arto superiore. La mano è un distretto che da Aristotele veniva definito l'organo degli organi, quindi già da questa frase si può capire la peculiarità della mano rispetto alle altre strutture del nostro corpo. In questo centro ci occupiamo della diagnosi, della prevenzione e della cura delle patologie che riguardano appunto il distretto umano, sia tramite visite specialistiche che vengono effettuate con cadenza mensile dal professor Giorgio Paiardi che è il primario dell'ospedale San Giuseppe di Milano e poi ci sono io che mi occupo della riabilitazione sia per quanto riguarda i trattamenti conservativi sia per il percorso post chirurgico che il paziente ha dopo l'intervento. Stiamo parlando sia di patologie che riguardano l'adulto sia per i bambini, quindi che possono avere traumi o malformazioni congenite. L'ospedale San Giuseppe è un punto di riferimento per la presa in carico appunto delle malformazioni congenite e dopo la mia esperienza di quasi una decina d'anni con il professor Paiardi e la sua equip rimango il punto di riferimento sul territorio per la riabilitazione anche dei piccoli pazienti. Quali sono le patologie più frequenti? Per quanto riguarda l'adulto trattiamo sia patologie infiammatorie e tendine, delle più comuni come possono essere il ditascato, il morbo di Decker-Ven, il tunnel carpale, quindi parliamo di compressioni nervose periferiche, traumi per esempio sul lavoro che possono dare esito a quindi un tipo di trattamento che riguarda più strutture e ci occupiamo anche delle malformazioni congenite dei bambini, anche dei traumi, ma soprattutto le malformazioni congenite che non sono poi così rare e per questo l'ospedale San Giuseppe rappresenta un punto di riferimento molto importante su tutto il territorio italiano. Per quanto riguarda le patologie dell'adulto, l'ospedale San Giuseppe è anche un centro di riferimento per il trattamento del morbo di Dupuitren. Io seguo poi il percorso riabilitativo. Cosa comporta questo morbo? Allora causa un ispessimento a livello del palmo, purtroppo non si può prevedere in quanto tempo questo poi causa una ritrazione a livello delle dita ed è per questo che la precocità della presa in carico come poi viene più volte sottolineato proprio nella riabilitazione della mano qui la fa da padrone. Prima mi rivolgo a un chirurgo della mano, comunque uno specialista della mano e dell'arto superiore, meglio poi ho beneficio dei trattamenti che mi vengono proposti. Quindi non è sempre facile individuare le cause? Individuare le cause no. Diciamo che il primo punto di raccolta più importante per capire di che cosa stiamo parlando, quindi per riconoscere i propri sintomi, è il medico di base e poi il medico di base deve dirigere i pazienti sul territorio dei chirurghi che sono specialisti. Però la prevenzione è l'arma più importante. Per quanto riguarda i tipi di trattamento che qui effettuate c'è anche la preparazione personalizzata dei tutori. Esatto, sì. I tutori sono uno strumento fondamentale per il terapista della mano e rappresentano un aiuto che può essere di diverso tipo. Infatti i tutori possono essere sia fissi, per esempio in caso di frattura, sia rimovibili, quindi si possono mettere e togliere e vanno a proteggere un segmento leso o a aumentarne la funzionalità, per esempio. Quindi a seconda della patologia che mi trovo davanti posso costruire, conoscendo il materiale, i diversi tipi di tutori di cui ho bisogno. Il concetto di tutore non è così nuovo. Già negli anni 70 hanno iniziato a comparire sul mercato i primi tutori, appunto i primi materiali che vengono poi trattati a bassa temperatura, stiamo parlando di 70 gradi, per dare spazio a una decina di anni dopo a materiali un pochino più evoluti, che hanno dato il via poi a una serie di produzioni, di proposte appunto per i terapisti, fino ad arrivare poi a materiali un pochino più innovativi come per esempio questo o il neoprene stesso, che è molto ben voluto da parte dei pazienti perché è molto morbido. Il tutore ha una sua definizione, quindi stiamo parlando di un apparecchio che applicato sopra o intorno a un segmento leso ha diverse funzioni. Quello di proteggere, appunto un osso che si è fratturato, un tendine infiammato per esempio, ha il compito anche di poter migliorare un movimento articolare, quindi stiamo parlando di tutori dinamici per esempio, o ha il compito di supplire a una funzione deficitaria e qui si parla di tutori funzionali. Quindi a seconda del mio obiettivo, conoscendo il problema del paziente, conoscendo i materiali che utilizzo, posso utilizzarli a mio piacimento per raggiungere l'obiettivo anche riabilitativo. I tutori la fanno un po' da padrone nel campo della riabilitazione della mano perché ci aiutano molto. Sono l'estensione a casa del terapista perché a volte vengono applicati dopo il trattamento sulla mano del paziente e il paziente con il tutore va a casa e diciamo che continua anche quello che è stato il succo della seduta riabilitativa. Il tutore si costruisce con questi materiali termoplastici che hanno diverse caratteristiche e su questi possono essere utilizzati anche delle trazioni dinamiche come per esempio queste che sono delle barre o questi che sono dei supporti per costruire poi dei tutori dinamici, magari anche con il filo da pesca e delle trazioni fatte da degli elastici. Poi ci sono anche, ovviamente pensando ai nostri pazienti pediatrici, delle chicche che possono far diventare il tutore un pochino più accettabile. e ovviamente anche il tutore stesso deve assolutamente garantire delle caratteristiche in termini di comfort prima di tutto di estetica e di funzionalità. Tanti pazienti arrivano e ci chiedono perché non posso andare a prendere il tutore preconfezionato e l'ortopedia. Prima di tutto non sono dei tutori sbagliati ma sono dei tutori che non sono fatti su misura, quindi la sua mano è diversa dalla mia piuttosto che da un altro paziente, quindi andare per taglie con i tutori non è un concetto che poi rende fruibile e funzionale il tutore stesso. Ci sono poi delle situazioni particolari in cui è assolutamente necessario avere un qualcosa fatto su misura. I tutori vengono scaldati a bassa temperatura tramite delle vasche che mantengono l'acqua calda, quindi adesso lo alziamo un pochino. Dentro appunto c'è l'acqua, il tutore viene messo dentro l'acqua, il materiale viene messo dentro l'acqua e poi modellato sulla mano del paziente. Questa è una caratteristica per noi terapisti molto importante perché nel momento in cui mi accorgo che c'è qualche modifica da fare, la modifica viene fatta rimettendo lo stesso materiale dentro l'acqua n volte. In tempo reale? Assolutamente, sì sì. Quindi se il paziente per varie ragioni non trova confortevole il tutore può venire e io in due minuti gli sistemo sempre quello che abbiamo fatto senza farne uno nuovo. Quindi anche dopo qualche giorno? Sì, assolutamente. Anche dopo mesi nel momento in cui devo sistemare e cambiare un tutore che ho fatto precedentemente e che per lo stato attuale non va bene, utilizzando l'acqua calda io posso modificarlo quante volte voglio. Adesso vi faccio vedere la costruzione di un tutore per una patologia molto comune che è la rizzoartrosi. Stiamo parlando quindi di un processo degenerativo a carico delle superfici articolari. In questo caso specifico stiamo parlando dell'artrosi della base del pollice. C'è un'alta incidenza purtroppo di questa patologia ma dovuta proprio all'utilizzo, al sovraccarico che le nostre superfici articolari subiscono. Pensate a quante azioni fa il pollice. Viene quindi normale già capire quanto possa essere compromesso e coinvolto nei processi di invecchiamento comunque delle nostre superfici articolari. Una premessa, la precocità della presa in carico è fondamentale. Quindi qualsiasi tipo di approccio riabilitativo si basa anche a seconda della situazione in cui il paziente arriva. Quindi prima il paziente va a farsi vedere dallo specialista. Meglio anche, esatto, i tutori funzionano e meno possiamo ricorrere alla chirurgia. Quindi invito chi ci sta ascoltando, qualora avesse qualsiasi tipo di problema, a rivolgersi, insomma senza aspettare troppo tempo, allo specialista e alla mano sul territorio più vicino. Proprio perché possiamo garantire anche una maggiore efficacia anche di questi strumenti. Quindi questo è il tutore che facciamo ritagliando un pezzo di questo materiale che ha uno spessore di un millimetro e sei. Quindi stiamo parlando di un materiale molto sottile, quindi maggiormente confortevole. Ok. Una volta che ho ritagliato il materiale lo metto qua dentro, in modo tale che si scalda. Nel frattempo taglio i velcri che mi serviranno per aprire e chiudere il tutore. Ha spussato anche gli angoli così? Sì, in modo tale che l'angolo vivo poi non ci sia, altrimenti è più facile che si tolga. E preparo anche il velcro. Prendo il materiale e lo applico direttamente sulla mano del paziente. Non scotta perché è tiepido. Confermo. Ok. Lascio, lascio morbido. metto i velcri. Poi lo ritaglio. E gli do un ultimo bagno. faccio aderire le parti che ho applicato alla fine. Chiedo sempre al paziente di stare in questa posizione. E di fare questo. Bravissima. Faccio le ultime rifiniture. Mettiamo poi il velcro femmina e il tutore è finito. Quindi anche per il paziente il tempo di impegno per fare un tutore, per venire a fare un tutore da un terapista e la mano è veramente poco, insomma. Infatti tanti mi chiedono se devono passare in un secondo momento a ritirarlo. Si può fare tutto in poco tempo. Si può fare tutto nello stesso momento, esatto. Ci sono dei pazienti che hanno delle richieste funzionali particolari. Pensiamo a chi fa un lavoro molto manuale come le sarte o a chi, per esempio, suona uno strumento musicale. In quel caso chiedo ai pazienti di portarmi gli strumenti del lavoro. Le forbici, per esempio, dei parrucchieri o lo strumento musicale stesso o l'attrezzo sportivo, per esempio. Per capire la posizione che tengono maggiormente. Perché io posso confezionare il tutore sulla mano, ma siamo qui, il paziente è fermo, non svolge l'attività. Mentre è importante che io capisca dove il paziente utilizza la mano, dove ha il problema e io dico sempre un lavoro di coppia. Quindi dobbiamo verificare, dobbiamo fare un'analisi dell'attività che è anche il gold standard della terapia occupazionale e capire dove il nostro intervento può essere maggiormente efficace. Quindi, il tutore è già asciutto e sono passati pochi secondi e viene fissato. E anche qui facciamo questo lavoro. Non deve essere portato stretto e permette qualsiasi tipo di movimento. Il polso nel tutore funzionale viene lasciato libero. Esiste poi, sempre nella patologia della rizortrosi, un tutore che è più lungo, comprende anche il polso e viene utilizzato di notte. Questo tutore si può lavare in acqua fredda a sapone e si deve lasciare ovviamente lontano dalle fonti di calore. Grazie. 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 Grazie.